Cogliere l'arco unitario della produzione artistica di uno dei massimi protagonisti del ventesimo secolo, quale è stato Vasily Kandinsky, attraverso 80 opere eccezionali, di datazione compresa tra il 1900 circa e il 1940, che coprono i diversi momenti della sua carriera. E' questo l'obiettivo ambizioso della mostra curata da Paolo Bolpagni e Eugenia Petrova. Di mostre su Kandinsky in Italia ne sono state proposte parecchie negli ultimi anni, ma nessuna con ambizioni come quelle che noi ci poniamo. Sono felice che ciò avvenga proprio a Rovigo, afferma il curatore Bolpagni. Ci saranno capolavori che tutti ricordiamo dai libri di scuola, ma anche molte scoperte di opere poco conosciute nel bel paese. A giustificare questa presa di posizione sono, da un lato, l'impianto scientifico dell'esposizione, dall'altro il numero e soprattutto la qualità delle opere riunite nelle 12 sezioni. A precederle un'ulteriore sala introduttiva riservata all'arte popolare russa. L'opera è in mostra a Palazzo Roverella dal 26 febbraio al 26 giugno, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo.